A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe Davidis. Amici di Rete7, non cambia la situazione in Italia e nemmeno sul nostro territorio, quindi il caldo continuerà, anzi aumenterà ancora un po', vedete nel weekend aumenterà in maniera decisa soprattutto al sud. Da noi perché non cambierà? Perché avremo cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, come al solito nel pomeriggio o meglio nelle ore centrali del giorno, a partire dalle ore centrali del giorno e per il pomeriggio acquazzoni, qualche rovescio isolato temporale sull'arco alpino, prealpino, ma su zone pianeggianti tutto sommato situazione tranquilla seppur con nuvole in aumento. Vedete sempre questi disturbi al nord, però nonostante tutto le temperature sono ovviamente ormai estive e andiamo a vedere appunto le temperature minime e massime. Iniziamo dalle temperature minime, minime tra i 16 e i 20 gradi nelle zone di pianura, attorno ai 17-19 gradi invece arriva al mare. Guardate le temperature massime comprese tra i 29 e i 31 o 32 gradi, quindi nonostante le nuvole in aumento durante il giorno, tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, comunque i valori potranno seppur di poco superare anche la soglia dei 30 gradi. Buona estate, anche se con delle nuvole e abbiamo visto sull'arco alpino, con zona torneri lievi, con della locale instabilità, ma nonostante tutto buona estate cari amici, noi ci riaggiorniamo presto.